Questa storia vera darà fastidio a molti. Mi chiamo Millie Fontana, ho 23 anni e sono figlia di due lesbiche, concepita tramite un donatore. Sono qui con il supporto di tutti e tre i miei genitori. Questa è una testimonianza che di sicuro è inaudita perché nessuno vuole sentire parlare dell'altro lato dell'arcobaleno, il lato non adatto per crescere dei bambini felici, perché crescono con un'idea sbagliata di come una struttura familiare dovrebbe essere. Crescendo volevo un padre. Sentivo dentro di me che mi mancava un padre prima ancora che potessi concepire quello che significava un padre. Sapevo che amavo entrambe le mie mamme, ma non riuscivo a capire quello che mancava dentro di me. Quando ho affrontato la scuola ho iniziato a realizzare, attraverso l'osservazione di altri bambini e dei loro legami d'amore con i loro padri, che mi stavo perdendo qualcosa di speciale. Mi è stato mentito durante tutta la scuola, mi è stato detto che non avevo un padre. È stato molto difficile per me affermare un'identità stabile per questo e la mia stabilità comportamentale ed emotiva ha sofferto molto a causa di questo. Sono cresciuta atea e senza alcuna affiliazione religiosa, ma supporto i cristiani perché finora, in questo dibattito, i cristiani sono gli unici che si pongono la questione e seguono i loro figli. I cristiani sono gli unici che cercano di accendere i riflettori sulle nostre storie. Nessuno nella lobby LGBT vuole ascoltare qualcuno come me perché love is love, giusto? Noi non esistiamo per loro. Crescendo mi guardavo allo specchio e pensavo da dove ho preso questi occhi verdi, da dove ho preso un certo aspetto della mia personalità o certi talenti che nessuno nella mia famiglia ha. La risposta è semplicemente mio padre, ma in realtà non è soltanto il padre o il donatore, come a loro piace chiamarlo, ma ho una zia, uno zio, una nonna e tanti cugini. Sono tutte cose che fanno parte di me. Chi erano i miei genitori per decidere quali parti di me è accettabile che conosca e quali no? Ho conosciuto mio padre quando avevo undici anni ed è stata probabilmente la prima volta nella vita in cui mi sono sentita una bambina stabile. L'ho guardato negli occhi e ho pensato, questa è la mia parte mancante. Non perché avessi fantasticato sull'avere un padre, ma perché ho potuto dare un volto a chi ero io. Ho potuto guardare chi è ugualmente responsabile della mia esistenza. Ho potuto affermare la mia identità basata su quest'uomo. Ho sentito questa menzogna della lobby LGBT. Ai bambini non importa chi è la loro famiglia, uomini e donne sono intercambiabili. Considero questo di per sé una forma di discriminazione di genere. Uomini e donne offrono ruoli complementari nell'allevare il bambino e dovrebbero essere rispettati con uguaglianza. È buffo il modo in cui la lobby gay parla di omofobia. Ho raccontato di amici gay che mi spiegano che altri gay li chiamano omofobi perché preferiscono che i bambini crescano con un padre e una madre. È totalmente ridicolo. Ero omofoba quando mi guardavo allo specchio e mi chiedevo dove fosse mio padre. Ero omofoba quando supplicavo i miei genitori di dirmi chi fossi. Assolutamente no. Io amo i miei tre genitori con uguaglianza. Io non vedo gender equality. Io vedo l'intenzione di sbarazzarsi del genere umano del tutto.